Un weekend che si prospetta fondamentale per la pallavolo bergamasca. Partiamo dalla Serie A1 femminile che vede la Foppa Pedretti impegnata in casa domani alle 18 contro Bologna. Contro la squadra ospite, Fanalino di Coda con soli tre punti, sarà fondamentale tenere alta la concentrazione e ripetere così la prova autorevole di Urbino che ha riportato le Rosso-Blu alla vittoria dopo 3K di fila. Il secondo posto solitario può infatti essere ipotecato proprio nei prossimi impegni casalinghi. Domani le inseguitrici della Foppa, Chieri Torino e Piacenza, osserveranno un turno di riposo, situazione ideale per aumentare gli attuali tre punti di vantaggio sulla terza piazza. Le ragazze di Cocciolavarini ospiteranno poi domenica 24 febbraio Pesaro e dopo il turno di riposo riceveranno il 10 marzo Giaveno, sempre al Palanorda. In B1 maschile la Dianetics Cisano macina gioco e risultati e dopo l'impresa di Milano, con i due punti strappati al tie-break contro la quarta forza del campionato, attende domenica alle 18 Genova, squadra che occupa la terza piazza. Partita difficilissima ma non impossibile, la quota salvezza per la Dianetics è per ora lontana tre punti. Giocherà la stessa ora anche la Caloni Agnelli, tornata al secondo posto dopo aver liquidato la pratica Iglesias. La squadra di Bergamo va a crema contro il fanalino di coda, ottima occasione per consolidare la seconda piazza e magari avvicinare la capolista Cantù, quattro punti sopra la Caloni. In B2 femminile trascorre e riceve Millennium Brescia. La Don Colleoni viene da due sconfitte consecutive al tie-break che le hanno fatte riavvicinare alla zona retrocessione. La partita contro le Bresciane ha la terza posizione in classifica, non è semplice ma stasera alle 21 la motivazione davanti al proprio pubblico conterà tantissimo. Nello stesso girone il Brembo Volley Team va nella tanna della sportiva Brescia, la partita si giocherà alle 18 di domenica. Infine si configura come un delicato scontro salvezza quello che attende il Valpalla Valbrembo in campo domenica alle 21 contro Modena, terz'ultima in classifica. Dopo la sconfitta di Reggio Emilia la squadra bergamasca è infatti ripiombata in zona pericolosa.